Un percorso lungo un anno scolastico per riflettere sul significato dei diritti e dei doveri del vivere sociale. È il Laboratorio di Cittadinanza Attiva che ha coinvolto 400 studenti delle scuole superiori della provincia di Torino e che all'arsenale della pace, in occasione delle celebrazioni della giornata della memoria, ha vissuto il suo incontro plenario. Promosso tra gli altri dal Comitato Resistenza e Costituzione del Consiglio regionale del Piemonte, il Laboratorio ha offerto alle ragazze e ai ragazzi la possibilità di confrontarsi e di approfondire due momenti fondamentali della storia italiana del Novecento, i 70 anni della Costituzione Repubblicana e gli 80 anni della promulgazione delle leggi razziali. Due avvenimenti lontani solo nel tempo, ma attuali in un percorso di crescita personale civile, capace di portare ad una maggiore consapevolezza di se stessi e degli altri. La consapevolezza è il fatto che la storia, insomma, possa effettivamente ancora insegnarci qualche cosa e nello stesso tempo recuperare questa parola famosa che è cittadinanza. E questi percorsi ci aiutano a riscoprire attraverso la storia ben documentata le radici che costruiscono, ovviamente l'albero che è oggi, che è fatto anche di consapevolezza di cittadini presenti e consapevoli. Una cittadinanza consapevole che non può e non deve ignorare né tantomeno sottovalutare i segnali di intolleranza e di disagio che nonostante le lezioni della storia ciclicamente ricompaiono nella società. Alcuni episodi che mi sembrano davvero molto preoccupanti di quello che è avvenuto negli ultimi mesi sono in qualche modo dei piccoli segnali di involuzione che vanno contrastate. E quindi se nella globalità della nostra quotidianità non riusciamo ad avere attenzione per comprendere se il nostro percorso per un'umanità migliore sta avendo delle ricadute vale la pena di ripensarci. Il rischio è infatti quello non solo di dimenticare ma di distorcere la memoria, un atteggiamento pericoloso tanto quello del non ricordare. Oggi purtroppo ci sono troppe distorsioni della memoria, troppe versioni senza senso che girano sul web, tutti fenomeni veramente inquietanti. Significa ritrovare la narrazione corretta di quello che è stato e soprattutto impegnarsi perché quel passato non abbia mai più a tornare.